La procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause che hanno portato al decesso di una bambina di appena 35 giorni. La piccola è stata trovata senza vita nella sua cula dai genitori di prima mattina. L'ultimo allattamento risaliva poche ore prima. L'ipotesi più accreditata è la sindrome della morte improvvisa del lattante, fenomeno di difficile spiegazione anche presso la comunità scientifica che in Italia ha un'incidenza dello 0,5 per mille.